Sì, venendo dal Baganza, allora c'era il pontino che era una passerella sul Baganza in cui si riusciva a passare. Poi la strada bianca che passava davanti all'asilo, che è l'asilo delle suore. Le suore avevano fatto l'asilo appositamente per tenere i bambini dei capannoni. E si arrivava, si andava sempre un po' più avanti, circa 400-500 metri. E poi c'era sulla sinistra, lasciando il Baganza alle spalle, sulla sinistra c'erano questi capannoni. C'era una discesa, c'erano queste costruzioni che sembravano delle officine. Ed erano molto, molto semplici. Dei caseggiati in cui si entrava sia da una parte che dall'altra, perché erano attigui. E venera una fila tutte insieme e davanti alla chiesa, c'era una chiesetta, quella che adesso è stata sconsacrata, ce n'erano degli altri. le case dei capannoni erano molto semplici, perché in pratica era una stanza, una stanza unica, in cui veniva posto verso l'alto alcune cose. Quando dovevano stendere le donne, quando dovevano stendere i panni, lo stendevano verso l'alto. Poi c'era il letto, naturalmente ai piedi del letto ci poteva essere un lettino per i figli, una tavola, in un angolo c'era una stufa, quasi sempre la stufa di ghisa, ed era quella l'unica cosa. E poi c'era un bagno, insomma, bagno, chiamiamolo bagno, c'era una turca.